Velo d'astico. Due donne scomparse misteriosamente più di 30 anni fa, un'indagine mai chiusa rimasta senza un colpevole, ma il ritrovamento alcuni giorni fa di un'unghia sul campo della famiglia Sperotto, probabilmente di un'alluce da parte degli esperti del Laboratorio di Antropologia ed Ontologia Forense di Milano, potrebbe portare a nuove rivelazioni. Le donne scomparse erano le mogli di Valerio Sperotto, deceduto nel 2011, proprietario dell'allevamento di maiali in cui quell'unghia è stata ritrovata. La scoperta durante l'attività di campionatura del terreno avviata da un costruttore di lugo interessato all'acquisto del campo. L'uomo aveva segnalato ai carabinieri la presenza di ossa. Il reperto presto sarà affidato ai RIS di Parma.